L'amicizia e lo sport, una frase significativa? Sì, perché l'amicizia e lo sport? Lo sport è una situazione sociale in cui è favoritissimo l'aggregamento, la condivisione, la conoscenza. L'amicizia è un sentimento importante, non a caso fa parte della famiglia, dei sentimenti, dell'amore. L'amicizia consente, specialmente nei ragazzi in fase di crescita, ma anche per i meno giovani, un'esperienza eccezionale che è l'approvazione, il consenso diretto alla propria persona. L'amicizia, per dirla in una frase, è l'esperienza di avere uno scambio con una persona considerato un altro se stesso. E capiamo bene quanto può essere importante questo sentirsi quasi doppio, un altro se stesso. Quindi questa è una veramente eccellente e squisita esperienza di affettività di cui l'uomo ha veramente tanto bisogno e in particolare i ragazzi. Ed ecco che quindi i ragazzi che frequentano i circoli sportivi non sempre primeggiano, non sono sempre vincitori. E allora cosa si sottolinea in questo articolo, l'amicizia allo sport? Che l'amicizia si vede proprio nel momento in cui un giovane, per esempio c'è un infortunio, si assenta dal circolo, non riceve telefonate, tutti gli amici spariscono. Nel momento in cui non si può più approfittare del suo modo di giocare, di allenarsi con lui, insomma di sfruttarlo, se vogliamo usare questo termine così improprio, ma molto chiaro, e il ragazzo viene un po' lasciato a se stesso. E quindi un giovane mi ha confidato proprio questo suo risentimento. Dice ma come? Ho avuto un infortunio ad una gamba, non mi chiamano più. E tutti i giorni ero lì con loro, eccetera. Non vedono che non sto andando al circolo. Ed ecco quindi che l'amicizia è fondamentale, anche nell'ambiente sportivo. Nel secondo numero abbiamo un altro titolo, quando la testa non c'è. Dunque, rispondo un attimo all'amicizia. Ecco, il caso che hai appena esposto è il caso di una amicizia interessata, cioè non è un'amicizia. L'amico tiene alla persona. Il ragazzo di cui parli ha avuto una delusione, con profonda amarezza ha reso nota questa cosa. Perché? Perché si era illuso di essere amato come persona, per quello che era, al di là dello sport e del suo ruolo nell'ambito del circolo e della sua preparazione. Ma ha scoperto con grande amarezza che erano interessate a lui esclusivamente perché aveva quel certo ruolo in quella certa squadra o in quel certo circolo. Ecco, questa è veramente un'esperienza penosa. In grado, se il ragazzo non è forte, di lasciare dei segni che produrranno echi nel corso della vita, molte, molte volte, non certo di qualità positiva.